Musica Adesso non c'è tempo per mangiare, sediti. Per favore. Per favore, sediti. Lo so come va a finire in questi casi. Tu stai zitta e basta. E io non so cosa pensi, ma credo che spesso pensi il peggio. Ma ti va bene così, pur di non chiedere? Perché tu non chiedi, non chiedi mai. Non chiedi come è stata la mia giornata, se ho voglia di fare qualcosa di diverso. Cosa penso, cosa provo. Allora mi tocca fare il monologo. Anche stavolta. È successo una volta. Una volta sola. Non doveva succedere, certo che non doveva succedere. Ma è successo per una volta sola. Basta, avanza. Basta, avanza, sì. Perché non mi sono mai sentita così tanto in colpa in vita mia. E non mi sono mai fatta così schifo. Però devi sapere che neanche in quel caso, come in ogni altro momento di tutti questi anni insieme, io non mi sono mai, e dico mai, nemmeno per un secondo. Spostata di un millimetro. Io sono sempre stata qui. Anche quando avevo la certezza delle tue scopate in giro. Penso a Luca ogni giorno. Ancora oggi. Ha volto la sensazione fisica che sia qui. E ancora oggi, ogni giorno, penso a come ci sei stato quando l'abbiamo perso. Ma è sempre andata così. Io e te abbiamo affrontato ogni cosa insieme. Ogni cosa. E siamo ancora qui. Io per quanto mi riguarda so perché sono qui. Tu non hai mai avuto una pistola alla Tempia. Possiamo mangiare adesso.